ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi parliamo dell'ordine degli esercizi all'interno della scheda quanto è importante avere un ordine preciso logico e razionale per dare un corretto stimolo ai nostri muscoli prima una piccola promessa all'avanzare delle serie per un dato gruppo muscolare causa fatica sia muscolare che articolare che sistemica il livello di forza cala nelle persone meno esperte peggiora anche il movimento e la tecnica è per questo motivo che noi spesso consigliamo di allenarsi in multifrequenza se dobbiamo fare per esempio 16 serie a settimana per un gruppo muscolare l'ideale è sempre spezzare queste serie in due sedute in modo tale da fare circa 8 serie a seduta il che ci porta ad avere 8 serie altamente qualitative sia in termini di meno accumulo di fatica sia in termini di gestione della tecnica se facessimo queste 16 serie tutte in un'unica seduta all'avanzare delle serie e degli esercizi la qualità peggiorerebbe in modo deciso andando a trasformare le ultime serie in volume a vuoto facciamo fatica muoviamo pesi ma quelle serie hanno un'efficacia minima o nulla proprio perché non riusciremo ad esprimere i corretti livelli di forza fatta questa promessa andiamo a capire come inserire gli esercizi in scheda la regola generale è quella di inserire gli esercizi dal più complesso al più semplice quindi prima inizierò da un esercizio multiarticolare in cui è essenziale avere una tecnica corretta per tutte le ripetizioni di tutte le serie in cui l'obiettivo principale è progredire con i carichi su questi dobbiamo diventare più forti nel tempo li chiamiamo esercizi carico centrici non dobbiamo fissarci troppo sulla sensazione di isolamento muscolare ma dobbiamo pensare solo ad esprimere forza serve allenare la forza se il nostro obiettivo è la massa muscolare assolutamente sì l'ipertrofia è un adattamento che il nostro corpo mette in atto in seguito ad una richiesta di forza quindi da natural per essere grosso devi essere anche forte i fisici più belli grossi e qualitativi incontrati nei backstage dei miei anni di agonismo erano quelli di atleti con alti gradi di forza questo non vuol dire che dobbiamo diventare tutti dei powerlifter e aumentare i nostri massimali su una ripetizione ma dobbiamo diventare forti in tutti i rend soprattutto quello ipertrofico che va dalle 6 alle 10 ripetizioni se l'anno scorso facevamo delle spinte in alto in 3x8 con 24 kg e quest'anno le facciamo con 30 molto probabilmente oltre ad essere migliorati a livello di forza saremo migliorati anche a livello di volumi allo stesso tempo dobbiamo diventare bravi anche su esercizi in cui non ci interessa l'aumento del carico nel tempo se quelli visti prima li abbiamo chiamati esercizi carico centrici questi li possiamo chiamare esercizi muscolocentrici su questi dobbiamo diventare bravi a isolare il muscolo senza compensi e a concentrarci bene sull'allungamento e sulla contrazione del nostro muscolo target e a ricercare quella sensazione di pumping che è sempre positivo e soddisfacente avere gli esercizi carico centrici sono per la maggior parte dei casi multiarticolari devono avere delle progressioni nel tempo e i recuperi sono lunghi tendenzialmente si lavora con un leggero buffer nella prima serie arrivando a cedimento nell'ultima quando lavoriamo corre range da 6 a 10 su panca scuote stacco quando è solitamente si lavora tra le due le cinque ripetizioni meglio mantenere sempre un buffer anche nelle ultime serie per tutti questi motivi questi esercizi vanno inseriti nella prima parte della scheda perché dobbiamo essere freschi lucidi e dobbiamo esprimere alti livelli di forza gli esercizi muscolo centrici invece possono essere sia multiarticolari che monoarticolari non occorre pianificare delle progressioni nelle settimane e i recuperi mediamente sono medi o medio brevi tendenzialmente su questi esercizi si lavora o sempre a cedimento in tutte le serie o con un leggerissimo buffer nella prima serie e a cedimento nelle ultime il carico non è importante non abbiamo progressioni non occorre puntare sulla forza tutti i motivi che ci indicano che devono essere inseriti nella seconda parte della seduta facciamo qualche esempio squat in 4x4 all'80 per cento del massimale lavoro carico centrico lo inserisco inizio seduta leg extension 3x12 lavoro muscolo centrico lo inserisco a fine seduta sul petto panca piana in 4x6 al 75 per cento del massimale lavoro carico centrico a inizio seduta croce cavi 3x10 più max quindi con una tecnica di intensità come lo stripping lavoro muscolo centrico lo inserisco a fine seduta ci sono poi esercizi che si prestano bene ad entrambe le tipologie di lavoro facciamo un esempio spinte manubri su panca piana le possiamo usare come esercizio carico centrico a inizio seduta in cui magari lavoriamo in 3x6 o 3x8 in cui ricerchiamo delle progressioni nelle settimane quando lo facciamo dobbiamo pensare ad esprimere forza e non all'isolamento muscolare in questo caso quindi le inseriamo a inizio seduta le possiamo poi usare anche come esercizio muscolo centrico a metà seduta o fine seduta in cui lavoriamo in 3x10 in 3x12 3x15 magari con una fase negativa rallentata in cui enfatizziamo il massimo allungamento muscolare ci concentriamo bene sulla sensazione di contrazione concentrica quando lo facciamo dobbiamo pensare più al muscolo e meno al carico e quindi in questo caso le spinte manubri le possiamo inserire nella seconda parte dell'allenamento ragazzi prima di proseguire vi ricordo che se volete allenarvi anche voi con queste logiche potete entrare in via atlet program il nostro percorso di allenamento su web app abbiamo un programma sia per uomo che per donna sia per la palestra che per l'home gym è un programma che si adatta ai tuoi livelli di forza grazie a dei test che si fanno a inizio percorso e poi ogni quattro mesi in più si avrà l'accesso esclusivo al nostro gruppo chiuso facebook in cui si possono fare domande si possono pubblicare i video e noi vi correggeremo se vuoi entrare nel team vuoi iniziare davvero a migliorare con una programmazione logica e ben strutturata trovi il link qui in alto e descrizione rendiamo ancora tutto più pratico allenamento gambe facciamo finta di fare un leg day con quasi iniziamo primo esercizio squat in 4 per 4 l'80 per cento con delle progressioni nelle settimane avremo alti livelli di forza da esprimere la difficoltà è alta esercizio carico centrico a inizio seduta primo esercizio passiamo poi a una leg press o una squat 3 per 8 con delle progressioni nelle settimane anche qui nel range medio medio alti livelli di forza da esprimere difficoltà media esercizio carico centrico lo mettiamo quindi come secondo esercizio a metà della nostra scheda terzo esercizio leg extension tre serie da 12 senza particolari progressioni nelle settimane lavoro muscolo centrico difficoltà bassa lo inserisco quindi nella seconda parte della scheda per concludere un esercizio simile per i femorali leg curl anche qui muscolo centrico esercizio facile in cui devo concentrarmi prevalentemente sul muscolo e meno col carico e lo inserisco appunto nella seconda parte della scheda quindi ragazzi come regola generale inserite prima gli esercizi più complessi in cui dovete essere nel pieno delle energie per esprimere alti livelli di forza in cui il carico è una componente prioritaria e a cascata inserite sempre in ordine di difficoltà e di importanza la componente carico tutti gli altri mantenete come ultimi esercizi quelli più facili in cui non ci interessa il carico ma in cui invece ricerchiamo solo un isolamento muscolare e una forte sensazione di pumping perfetto ragazzi come sempre quindi mettete tutto in pratica e noi ci vediamo al prossimo video iscriviti al nostro canale